Perché un sistema alimentare sia sostenibile, ovviamente deve essere in grado di integrare più componenti in modo da generare un benessere socio-economico ma anche ambientale. Quindi ovviamente deve essere sicuramente accessibile a tutti, deve essere ovviamente sostenibile, ma la cosa che secondo me è fondamentale è che deve essere in grado di unire i vari popoli, cioè cercare di unire le varie culture in modo tale da creare quella che è una cultura intercontinentale in tutto il mondo. Io credo che la politica, i politici in questo momento si dovrebbero concentrare molto di più sui giovani. I giovani rappresentano il futuro, sono l'innovazione e l'innovazione è il canale che ci permetterà di vincere la sfida verso la creazione di un sistema alimentare sostenibile. Il mio progetto è un progetto molto semplice ma allo stesso tempo molto concreto. Quello che propongo è l'utilizzo di un legume che si chiama Mucuna Prudience per il trattamento del morbo di Parkinson. Il morbo di Parkinson è una patologia neurodegenerativa che colpisce soprattutto le persone anziane e che ha una prevalenza all'incirca del 2% in Europa. È una prevalenza molto più bassa invece nei paesi in via di sviluppo, ma anche in questi paesi al momento si sta registrando un aumento appunto della prevalenza proprio perché sta aumentando la vita media. Purtroppo il problema è il costo della terapia tradizionale in questi paesi che è la levodopa. La levodopa fra l'altro è appunto contenuta in alte concentrazioni all'interno di questo fagiolo, della Mucuna Prudience. Quindi l'idea è proprio quella di utilizzare la Mucuna Prudience come trattamento, a lungo termine ovviamente, per il trattamento del morbo di Parkinson. Proprio per quelle persone che non sono in grado di avere accesso quotidianamente a una terapia ovviamente che deve essere fatta per tutta la vita ed è quindi una terapia accessibile per tutti, facile, economica e che rispetta sia l'ambiente ma ovviamente anche ottima per la persona. Grazie a tutti.